Anche Cuba partecipa alla giornata mondiale del turismo? Sì, Cuba partecipa alla giornata mondiale del turismo perché ci tiene tanto a questa attività, attività molto importante per l'economia cubana. Poi perché il turismo, come dicevamo prima, è un confronto tra culture e l'opportunità di poter intercambiare tra i popoli, conoscere la loro storia, cultura, patrimonio e poi per la sostenibilità dei paesi al quale Cuba ci tiene tanto.